venditania 2022 continua ci troviamo allo stand della sand en vendo la multinazionale che realizza distributori automatici da molti decenni e che oggi è ben rappresentata dal suo responsabile commerciale italia mauro giordano mauro bentornato dopo quattro anni ti ringrazio fabio bentornato a te non dopo quattro anni ma in generale bravo sono contento grazie grazie anche a te sono ringraziando un po tutti coloro che in modo davvero commuovente e ammirevole riescono a farmi commuovere davanti alle telecamera e allora parliamo di quello che voi proponete al popolo del vendi in questa edizione 2022 di venditalia si siamo contenti di poter presentare alcune novità dopo questi anni di studio di quello che è la richiesta del mercato di quella che sarà anche una tendenza il concetto principale che presentiamo è la multi vending machine cioè un concetto di market automatico gestito con una cassa centrale e vari moduli per la distribuzione e l'acquisto di ogni tipo di prodotto food e non food beverage ogni tipo di packaging con la versatilità dei nostri sistemi di erogazione le macchine di vendo italy oggi sand en vendo una volta vendo italy per chi è italiano oggi sand en vendo hanno delle particolarità ovvero sono robustissime durano nel tempo tanti tanti ma tanti anni è un bene naturalmente per i gestori ma un male per voi perché il ricambio generazionale dei distributori poi fatica ad esserci e dunque insomma dovete venderne meno per raggiungere il vostro budget annuale tutto vero in ogni caso la qualità è sempre stata per sand en un punto di forza e quindi che le macchine le macchine durino tanto bene siamo contenti e credo che siano contenti anche i nostri clienti e allora siamo partiti da questa parte qui andiamo dall'altra parte dello stand e cerchiamo di scoprire quelle che sono le altre novità presentate da sand en vendo qui a venditalia perfetto al centro dello stand abbiamo la nuova macchina del caffè la uno office si tratta di una macchina piccola innovativa per le soluzioni tecniche interne e un servizio per quelli che sono i piccoli uffici dove si richiede una qualità del caffè erogazione e utilizzo di caffè in grani per evitare lo spreco e il rifiuto creato dalle capsule continuiamo con la parte delle macchine dedicate ai negozi automatici la gamma si amplia con la macchina del surgelato non solo quindi gelato ma anche i cibi surgelati piatti pronti e ogni tipo di prodotto dedicato al mondo gastronomico una soluzione per le mense una soluzione per i punti vendita e per la distribuzione mauro i prodotti voi state esponendo sono davvero di varia varietà andiamo dal caldo al fritto al surgelato al al 4 gradi e naturalmente soddisfano tutte le richieste dei gestori siete molto coperti modo molto capillari con diciamo l'offerta e anche con i contatti con i gestori tuttavia sappiamo bene che talvolta ci sono le maglie che si smagliano e dunque c'è sempre qualcuno che non sa come contattarvi e allora qual è l'indirizzo a cui poter scrivere per entrare in contatto diretto con voi richiedere maggiori informazioni e chissà intraprendere una relazione commerciale con sand and vendo siamo sempre a disposizione per ogni tipo di contatto utilizzate il nostro indirizzo email commerciale chiocciola sand and vendo punti t sul nostro sito web ci sono i riferimenti personali di ognuno di noi dal punto di vista commerciale se avete bisogno di un aiuto tecnico di un supporto tecnico siamo a disposizione trovate tutti i contatti mauro io ti ringrazio per la disponibilità sono certo che ci senti ci risentiremo prestissimo per tante altre novità che voi andrete a presentare al pubblico della distribuzione automatica italiana e internazionale lo faremo anche attraverso vending tv.it e vending news la nostra rivista bimestrale dedicata agli addetti ai lavori grazie grazie a te fabio grazie a tutti i tuoi lettori e a tutti gli amici del vending grazie mauro noi continuiamo a presentare tutte le altre novità che stiamo cercando e trovando qui a venditalia 2022 per proporvele in anteprima